Ricette di Pasqua Budino di ricotta A Pasqua solitamente si fa un largo uso di ricotta e oggi vediamo insieme come preparare un gustosissimo budino di ricotta di pecora. Si tratta di un budino piuttosto insolito visto che non avrà consistenza gelatinosa, bensì verrà soffice e morbido. Per preparare il budino di ricotta per quattro persone abbiamo bisogno di 250 grammi di ricotta di pecora, 2 uova, 25 grammi di amido di mai, 100 grammi di zucchero, mezzo limone, panna montata.La prima cosa da fare è quella di sbattere la ricotta con i tuorli e lo zucchero al quale poi sarà aggiunta la buccia del limone grattugiata, a parte montate gli albumi a neve e quindi aggiungeteli al composto di uova e ricotta. Prendete degli stampi, imburrateli, metteteci la crema e posizionate gli stampini in un teglia con i bordi alti, riempitela con acqua caldo fino alla metà dello stampo e infornate a 175 gradi per circa 30 minuti. Una volta sfornati lasciateli intiepidire e serviteli sul piatto decorando il tutto con panna montata.